Giovanni Mascia, storico e scrittore molisano, in occasione del giorno della memoria ha scritto un lungo e davvero toccante articolo su Toro Web, dove ricorda la figura del padre internato durante la seconda guerra mondiale in un lager nazista. Ce ne parla Tonino Danese. Il 27 gennaio è stato il giorno della memoria, il ricordo della Shoah. Angelo Maria Mascia, detto Angiolino, nacque proprio il 27 gennaio nel 1921 a Cerce Maggiore. Come tanti suoi coetanei partì per la guerra, aviere in Albania, aveva la bellezza e l'incoscienza dei vent'anni, contadino, falegname, mugnaio, in tasca solo la quinta elementare, ma in testa un cervello di primordine e principi ben radicati. Il conflitto lo cambiò, come tanti. Il giorno dopo l'armistizio, il 9 settembre del 1943, finì nel campo di concentramento nazista di Gerlitz e fu liberato il 20 aprile del 1945 dagli alleati. Ma solo il 2 settembre poté tornare nel suo Molise. Patì 20 mesi di privazioni, fame, vessazioni, umiliazioni e vide cose che possiamo solo immaginare. E lo fece perché non volle aderire alla Repubblica Sociale, non volle continuare la guerra nazifascista, non volle combattere contro altri italiani, preferendo i reticolati di un lager. Quel viaggio infernale nei vagoni con altri come lui, pigiati, si sentì tradito dal re e da Badoglio, abbandonato senza armi ai tedeschi. Forse vide la fine di ebrei e zingari, vittime della follia di Hitler. Sono le riflessioni di Giovanni Mascia, storico e penna finissima, che proprio in occasione del giorno della memoria sul sito Toro Web ricorda il padre, Angiolino. Quell'uomo taciturno morto nel 1985. Mascia ricorda il papà attraverso le foto e fa anche un'analisi storica. Quelle immagini del giovane soldato che nuota nel mare albanese, che è indivisa con altri giovani. Lo ricorda attraverso le foto del lager, attraverso i documenti che lo riguardano e immagina quello che non gli ha mai detto e che lui, figlio, avrebbe voluto sentirgli raccontare. Immagina pensieri e convinzioni di quel papà. E Giovanni Mascia si chiede perché durante le partite a scacchi, quando lui gli chiedeva di quel periodo, Angiolino non gli avesse mai detto nulla. Perché ha dovuto fare ricerche e interviste per sapere da altri sì e da lui niente. La sua risposta era sempre la stessa. E che ti devo dire, figlio? Sono cose passate. Ecco, forse voleva solo dimenticare. Troppo duro, vergognoso, brutto parlare. Dallo scritto di Mascia trasuda tutta la commozione del figlio che ammira il padre. La stessa commozione che lo ha assalito ad Altiglia il 2 giugno, quando ha ritirato dalle mani del prefetto la medaglia ad onore concessa dal Presidente della Repubblica alla memoria di Angelo Maria Mascia. Detto Angiolino, aviere, biondo come un tedesco, ma italiano vero.